Volevo chiedere una cosa, a riferimento a Stefano Palumbo, quindi ha parlato di convergenza, lo ha citato più volte. Quindi lo scenario Stefano Palumbo che molli tutto quanto, quindi che arrivi dalla parte sua, questo è plausibile, è disegnabile, vi siete visti, avete parlato di questo, quindi è un discorso fattibile. Qui non c'è una parte, la parte è l'attenzione nei confronti della città. Credo che Stefano Palumbo debba essere valorizzato per il lavoro che ha fatto. Io credo che, è come pensare che le prossime elezioni al Consiglio regionale noi non valutiamo il lavoro fatto da chi sta conducendo una battaglia d'opposizione tra queste mura. Io credo invece che non sia stata prestata la giusta attenzione e guardate, non ci si è concentrati nell'interlocuzione con i consiglieri comunali. Stefano Palumbo è una persona che ha fatto bene. Ha parlato solo con lei, con il PD, lei ha parlato solo con Palumbo. No, no, li ho ringraziati tutti all'inizio, ho parlato con il segretario regionale, il cittadino e il provinciale. È riuscito a parlare, cambia domanda. Sono riuscito a parlare e ho parlato in una maniera cordiale e adeguata politicamente. Io credo che l'interesse di tutti è quello di riuscire a vincere le elezioni in città, non di quello che deve fare Amerigo Di Benedetto, e l'ho rappresentato nella maniera più chiara possibile e con la massima disponibilità. Oltre questo, evidentemente, noi non possiamo andare. Grazie.